coronavirus due decessi nella giornata di oggi a perdere la vita un 59enne ed una donna di 102 anni da laboratorio analisi invece si contano 371 nuovi contagiati e 241 guariti è in atto una nuova andata di caldo africano lungo la penisola con temperature al di sopra dei 40 gradi in diverse città all'erta anche per Campobasso avviato dal movimento dei consumatori il progetto aggiunge un pasto a tavola che si propone di contrastare la povertà attraverso la raccolta dei beni alimentari Campobasso calcio tutto nelle mani del Tar che sarà chiamato a decidere le sorti dei lupi intanto fra i tifosi giunge la notizia del possibile ritorno di Rizzetta in società Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'edizione del telegiornale di TLT e nel pomeriggio di oggi due gli eventi che hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso incidente stradale sulla strada 647 in una contrada in agro del comune di Castro Pignano che ha visto coinvolte due autovetture una persona ferita non gravemente soccorsa dal 118 di seguito poi un autocarro in fiamme sulla tangenziale ovest del capoluogo molisano nessun ferito durante l'evento non compromesso il traffico veicolare sul tratto stradale interessato durante le operazioni di estinzione delle fiamme messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento intervenute anche una volante della postrada e una pattuglia della polizia municipale E cambiamo adesso argomento e parliamo della gestione pandemica Nella giornata di oggi si registrano due decessi a perdere la vita un uomo di 59 anni di Sesto Campano ed una donna di 102 anni di San Giovanni in Galdo Il totale dei morti da inizio pandemia sale così a 646 dal laboratorio analisi dell'ASREM emergono 371 nuovi casi di contagio su 1491 tamponi processati I guariti sono stati invece 241 all'ospedale Cardarelli del capoluogo sono due nuovi ricoverati a fronte di tre dimissioni Gli ospedalizzati totali sono 17 tutti all'interno del reparto di malattie infettive E un malore non ha lasciato scampo questa mattina al cimitero di Campobasso si è fermato il cuore di un 69enne mentre pregava nella cappella di famiglia Nulla hanno potuto fare i sanitari e il medico del 118 giunti celermente sul posto originario di Providenti da anni L'uomo viveva nel capoluogo molisano sul posto anche la polizia municipale che ha transennato l'area Il magistrato di turno Rita Carollo accertate le cause naturali del decesso ha disposto così la restituzione della salma per i funerali E parliamo adesso di cronaca Baby Gang a Campobasso per i sei ragazzi tra i 15 e i 17 anni è stato chiesto il rinvio a giudizio Si resero protagonisti di una serie di aggressioni nei confronti di coetanei e di persone adulte L'udienza preliminare sarebbe stata fissata al prossimo 28 di dicembre I reati contestati anche in concorso vanno a vario titolo dalle lesioni alle minacce alle percosse E la commissione di un ulteriore reato di natura volontaria ha portato al Tribunale di Sernia Su richiesta della Procura della Repubblica ad aggravare la misura nei confronti di un giovane di Sernia Dopo aver aggredito la madre causando le lesioni giudicate guaribili in dieci giorni dal pronto soccorso dell'ospedale veneziale L'uomo è stato trasferito dalla polizia per entrare in carcere La vittima in sede di denuncia ha raccontato che l'aggressione del figlio non era stata occasionale Ma che più volte la stessa era stata malmenata per futili motivi La dirigenza della CGL ha illustrato le motivazioni alla base della lettera di diffida Che è stata inviata al commissario ad acta della sanità molisana Donato Toma E alla competenza del Ministero della Salute Ma andiamo a vedere La situazione del personale della sanità pubblica in Molise è davvero preoccupante Con una organizzazione del sistema lavorativo sicuramente critica Che fa il paio con altre difficili condizioni A tal riguardo dalla CGL arriva al commissario ad acta della sanità Donato Toma Una formale diffida che chiede soluzioni immediate in materia di forza lavoro all'interno delle strutture ospedaliere La diffida è un atto importante perché lancia un grido d'allarme Noi speriamo che non sia l'ultimo grido d'allarme Ma è un forte grido d'allarme perché la nostra sanità, la sanità nella nostra regione È arrivata a dei livelli di guardia Noi abbiamo delle carenze di personale per cui non si riescono a garantire neanche i servizi essenziali E lo abbiamo segnalato nella diffida I servizi essenziali sono i pronti soccorso Nei quali non abbiamo i medici C'è il caso di Sernia ma abbiamo anche il caso del Cardarelli e il caso del Sant'Emodia Per non parlare anche della fuga dei medici Perché il caso del professor Molinaro di ginecologia del Sant'Emodia è un esempio Noi cerchiamo medici da assumere quando poi non riusciamo neanche a trattenere in servizio Quei luminari che in qualche modo possono creare un'eccellenza in questa regione Quindi siamo fortemente preoccupati Il tema delle carenze di personale è il tema fondamentale rispetto a questa situazione Noi abbiamo anche delle soluzioni Abbiamo anche prospettato delle soluzioni Le soluzioni sono che siccome nel pubblico impiego per entrare nella sanità pubblica Ci vuole un concorso e ci vuole abbastanza tempo Invece c'è la legge finanziaria licenziata nel 2021 Che permette la stabilizzazione e l'assunzione dei precari Sono centinaia i precari che hanno lavorato dal tempo del Covid ad oggi nei nostri ospedali Sono tempi determinati e partite IVA Se noi facessimo un percorso di stabilizzazione per questi precari Nel giro di poco tempo avremmo centinaia di operatori sanitari e infermieri Pronti ad entrare in servizio nei nostri ospedali Nell'occasione abbiamo ascoltato il dottor Lucio Pastore Primario del pronto soccorso di Sernia Che ha sempre sottolineato lo stato di difficoltà del reparto Stiamo in una situazione davvero critica L'idea almeno di allontanarmi in questo momento è forte Perché non abbiamo risposte reali E siamo in una condizione di collasso, di sfascio E veramente non sappiamo dove mettere mani Ho cercato di mantenere viva una situazione per uno sviluppo futuro Ma nella sostanza la volontà è quella di distruggere queste strutture Da vent'anni a questa parte Quindi sono create le condizioni progressive di distruzione Adesso stiamo nella fase finale E quindi siamo in una dimensione di collasso Ormai tutto si regge essenzialmente su quelle che sono le attività aggiuntive Le faccio presente che Agnone recentemente Permanente nell'attivo fa 60.000 euro di attività aggiuntive Il che significa che siamo proprio al di fuori di qualsiasi criterio di funzionalità di sistema Noi adesso non riusciamo più a reggere Quindi siamo riusciti a stendere Non so ancora bene se riusciamo a terminare la settimana Perché c'è stato un apporto di un turno dato da un collega di Campobasso Un altro turno che viene da un collega di Agnone E un altro mezzo turno da un collega della medicina Sono saltati tutti i criteri europei Si va molto al di là delle 12 ore massime Si arriva anche a 36 ore in alcune case Ma le lascio immaginare qual è la qualità dei servizi E quali sono le condizioni di pericolo per gli operatori e per gli utenti Canenza di personale medico in Molise Il presidente della regione Donato Toma Ha scritto al premier, all'ex ormai premier Mario Draghi Al ministro della difesa Lorenzo Guerini Al presidente del forum per la difesa della sanità pubblica Italo Testa Chiedendo l'intervento sul territorio di medici militari Il forum ha detto una soddisfazione parziale per questa domanda Gestione sanitaria Si torna a parlare anche delle sorti del punto nascite Dell'ospedale Santimotio di Termoli Ancora in bilico A chiedere spiegazioni è l'ex presidente di regione Michele Iorio Che si scaglia nuovamente contro il commissario ad acta Donato Toma E la sua giunta Iorio parla di una vera e propria inefficienza Della gestione sanitaria è di un punto fondamentale Per il numero di nascite Che solitamente avviene nella città adriatica E pertanto dice va tutelato Fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza Per valorizzare i piccoli borghi Il Taramolise conferma il finanziamento Di 20 milioni di euro per il comune di Pietrabondante A presentare il ricorso era stato il comune di Castel del Giudice Ma vediamo nel dettaglio La recente sentenza del Tar conferma il conferimento Dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza Al comune di Pietrabondante Al borgo andrà in sostanza la somma di 20 milioni di euro L'investimento si riferisce al punto delle attività dei borghi Prevede la linea di investimento dedicata a 21 progetti pilota Per la rigenerazione culturale, sociale ed economica Dei borghi a rischio abbandono e abbandonati Si tratta di una linea di investimento Che assume rilievo per il rilancio di realtà Quali quella molisana in estrema difficoltà socio-economica Anche a causa della dura crisi determinata dalla pandemia Alla predetta procedura parteciparono 32 comuni molisani Mediante manifestazione di interesse E la commissione giudicatrice decise poi Di destinare la somma a Pietrabondante Fra i luoghi partecipanti anche quello di Castel del Giudice Che a seguito del risultato però poi decise di chiedere chiarezza Impugnando al tribunale amministrativo la determinazione Con la quale erano stati approvati gli esiti della procedura di finanziamento Le contestazioni mosse dal comune ricorrente Erano per lo più attinenti ai presunti vizi inficianti L'ammissibilità della manifestazione di interesse del comune vincitore Il Tare in una prima fase cautelare aveva accolto con ordinanza L'istanza promossa dal comune ricorrente Pietrabondante però aveva poi risposto Presentando ricorso incidentale a fine di contestare Parimenti la sussistenza dei vizi In capo alla domanda di partecipazione del comune di Castel del Giudice Il giudice amministrativo ha poi in sostanza evidenziato L'infondatezza di ogni punto del ricorso del comune di Castel del Giudice Accertando così la piena sussistenza per Pietrabondante che si aggiudica ai fondi Il comune abruzzese di Paglietta a breve beneficerà di una nuova palestra A disposizione dei residenti Questo perché si è giudicato un bando per il potenziamento delle infrastrutture Dello sport a scuola nell'ambito proprio del piano nazionale di ripresa e resilienza Temperature sempre più alte nei prossimi giorni Nelle due province della regione l'anticiclone africano si fa sentire Sono in aumento in Italia le città da Bolino Rosso Per il rischio elevato di ondate di calore Oggi dopo un periodo con temperature particolarmente alte Lo zero termico si trova oltre i 4.400 metri Ma è gran parte dell'Europa a boccheggiare per l'afa di questa settimana Da oggi anche il Molise nella morsa dell'anticiclone africano E tra le realtà nazionali appunto a Bollino Rosso Le ondate di caldo estremo si verificano quando si registrano valori atmosferici Molto elevati per più giorni Associati a tassi elevati di umidità e forte Irraggiamento del sole Per gli anziani neonati sono condizioni climatiche rischiose per la salute Meglio allora restare a casa nelle ore più calde Evitare sforzi muscolari estenuanti Non bere alcolici e limitarsi nell'assunzione di pietanze eccessivamente grasse Oggi nel capoluogo di regione sono previsti 34 gradi Che saliranno fino a 38 Mercoledì della settimana prossima 35 gradi invece a Disernia Con punte massime di 38 Lunedì 25 La situazione meno difficoltosa invece appare a Termoli Con la massima di 37 gradi che si registrerà A parere degli esperti solo martedì 26 Per effetto di questi valori e della prolungata siccità Le campagne sono a secco i terreni brulli e duri Le conseguenze sono ampiamente prevedibili Da una parte l'alto rischio che le fiamme brucino i boschi E dall'altro la perdita di numerosi prodotti ortofrutticoli Dopo quattro anni trascorsi al vertice del comando della stazione navale E della guardia di finanza di Termoli Il tenente colonnello Alessandro Furnò Passa a nuovo incarico a capo ufficio comando Presso il reparto aeronavale di Roan di Napoli A prendere il suo posto il tenente colonnello Paolo Vignudelli Avviato dal Movimento Consumatori Il progetto aggiungi un pasto a tavola Che si propone così di combattere contro la povertà Attraverso la raccolta e la distribuzione di beni alimentari Ma vediamo I volontari del Movimento Consumatori Hanno voluto chiamare il loro progetto Aggiungi un pasto a tavola Prendendo in prestito e modificando nel titolo La bella e famosa commedia musicale di Garinei e Giovannini Il percorso è tutto nel segno della solidarietà Con al centro la raccolta e la distribuzione di cibo Nell'ambito di una piattaforma informatica Dove si evidenziano donatori e beneficiari Che si incontrano negli ambiti della domanda ed offerta Aggiungi un pasto a tavola Che è incentrato Sulla messa a disposizione Di una piattaforma Dove l'offerta Degli operatori economici E le richieste Delle associazioni E le strutture di solidarietà Si incrociano E possano usufruire Di queste disponibilità In tempi labili Consentitemi di dire Che è già un successo Questo avvio del processo Per la capacità di aggregazione Che abbiamo avuto E che penso è un valore Abbiamo sei comuni Che hanno aderito Sette associazioni Istituzioni importanti Come la Casa di Riposo Pistilli Due aziende Di sicuro prestigio Due aziende Produttrice di sicuro E due associazioni Che daranno vita A uno Degli interventi E che i comuni Sono adesioni Non nominalistiche Ognuno fa qualcosa In questo progetto I comuni faranno Un tavolo istituzionale Che abbiamo previsto Per lo studio E l'applicazione Le associazioni Molise Sorriso E la cooperativa sociale Cairos Faranno un intervento Educational Per i bambini Della scuola primaria Per far capire a loro Che questo fenomeno Della povertà Interessa anche noi E sta intorno a noi E quindi promuovere Un atteggiamento Di accoglienza E di comprensione Nei confronti Degli altri Ricercatore Ingegnere Bionedico Ed esperto Di biomeccanica Carlo De Luca A sei anni Dalla scomparsa Negli Stati Uniti E' stato ricordato A Bagnoli Del Trinio Dinanzi La sua casa Natia L'associazione Gruppo di volontariato Bagnolesi E l'amministrazione Comunale Gli hanno intitolato Una targa In ricordo Ma vediamo Ricercatore Ingegnere Carlo De Luca Scomparso sei anni fa Negli Stati Uniti A Boston Emanuele Ianiero Qui siamo Dinanzi La sua casa Natale Nel paese Di Bagnoli Del Trinio In via Cesare Battisti Perché questa ricorrenza Perché da sei anni Bagnoli vuole ricordare Uno dei personaggi Delle figure Principali Del proprio paese Innanzitutto Perché è stato Uno dei personaggi Più importanti Che Bagnoli Ha visto nascere E che purtroppo Negli anni Non è stato mai riconosciuto Del tutto Per il suo operato Quindi Al sesto anniversario Della sua morte Finalmente Siamo riusciti A organizzare Questa presentazione Di una targa Nella casa di nascita Per ricordare Il personaggio E soprattutto Per fare un evento Che ha un inizio Ma non ha una fine Con la giornata odierna Perché è proprio L'inizio Per noi Di una riconoscenza Della comunità Bagnolese Nei confronti Di questa persona Quindi Un inizio Di una celebrazione Del suo operato Di commemorazione Delle sue Importanti scoperte Anche dal punto di vista Medico Dal punto di vista Biomeccanico È stato un bagnolese Che è stato ricordato In tutto il mondo Per importanti scoperte Sui macchinari Elettrici E elettromeccanici E ha dato Delle importanti Svolte Sugli studi scientifici Del settore Quindi Partire dalla comunità È l'essenziale Perché se Non parte Un senso di riconoscenza Dalla comunità stessa Bagnolese Figuriamoci se Dall'esterno Si può parlare Di questa persona Che possiamo dire Perché abbiamo analizzato Tutte le informazioni A riguardo Ha dato un contributo Per tutta la comunità Non solo italiana Ma anche di tutto il mondo Come spesso accade Per moltissimi Molisani La notorietà Arriva soltanto All'estero Quando si emigra Sì Lui poi Amava Diciamo Nascondere questa cosa Anche nelle sue interviste Tendeva sempre Di cercare Ciò che di buono C'era Dell'Italia Anche dal punto di vista Della ricerca Anche se Negli anni 60-70 Il dislivello Tra la ricerca Italiana E quella Statunitense Era sicuramente Abbastanza evidente Però aveva un rapporto Con l'Italia Molto importante Amava tornarci Amava girare Per i vicoli Di Bagnoli Anche in solitaria Quindi Spesso Non amava Riportare Qui in paese Quello che Aveva raggiunto Lì Perché era sicuramente Un grado Molto Molto Importante Ma amava Esprimere L'umiltà Del bagnolese Che era partito Riascoltando Le persone anziane Che ritrovava I parenti E tutte le persone Che qui Appunto Non capivano Quello che Invece Stava facendo Dall'altra parte Dell'oceano Qual è l'importanza Principale Di Carlo De Luca Del dottore Soprattutto in ambito Come ricercatore Come figura Proprio scientifica Basta ricordare Che in Circa l'80% Dei macchinari Ospedalieri Italiani E non solo C'è il marchio Della De Luca Foundation La fondazione Che continua Ad operare Diciamo Le idee E le iniziative Del dottore E che Sono sempre attive Nella ricerca Soprattutto di collaborazioni Con scuole Proprio perché L'obiettivo È quello Di trasmettere Queste conoscenze Alle nuove generazioni Obiettivo che aveva lui E che la fondazione Continua a fare Perché Proprio pochi giorni fa Sono state assegnate Delle borse di studio A suo nome Per i ricercatori Importanti Tra l'altro Quest'anno Anche alcuni italiani Hanno avuto Questa possibilità Quindi Carlo Non ha mai Diciamo Svolto il suo operato Per celebrare La sua figura Ma ha sempre Condiviso con altri E ha avuto il desiderio Di trasmettere Alle altre generazioni Quello che lui Aveva scoperto O comunque Quello che Si stava studiando Offrendo tutti I requisiti necessari Per queste ricerche Tutti gli strumenti Da mettere a disposizione Per tutti Il reparto dei carabinieri Biodiversità di Zernia Organizza l'edizione 2022 Della notte Bianca della biodiversità Previste Rappresentazioni teatrali In abiti d'epoca Visite guidate Dell'antico maniero E del bosco Di abeti Bianchi Osservazioni Della volta Celeste Ed altre attività Un percorso storico E naturalistico Che avrà inizio Nel pomeriggio Di domani A Castello Ducale Di Pesco Lanciano Per poi Proseguire E concludersi Nella riserva naturale Dello stato E della riserva Della biodiversità Ma a Bunesco Colle Meluccio Di Pesco Lanciano Nasce Alto Medio Sagnocard La carta turistica Dell'area interna Del più grande Molise Prima sperimentazione Di un progetto Di turismo Integrato Siti di interesse Esperienze Prodotti tipici E ristoranti In rete Grazie all'Alto Medio Sagnocard Che garantisce sconti E vantaggi Per i visitatori Di numerose località Del Molise Tra cui anche Agnone Frosolone E Trivento Una carta sconti gratuita Progettata dalla SNAI Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sagnio Ed allegata ad una guida In doppia lingua Italiano E inglese Oggi la presentazione A Palazzo Gil Di Campobasso Un gran bel progetto 33 comuni Ma oltre 75 Stackholder Del territorio E dell'asse turistico Del territorio Stiamo alzando L'asticella Dell'accoglienza Dell'innovazione Innovazione Di un'offerta turistica E sono veramente soddisfatto Perché il territorio Sta rispondendo A quello che sono Intanto le linee guide Del piano strategico Del turismo Ma soprattutto A quello che è L'azione messa in campo Da quattro anni Dall'assessorato Al turismo Di questa regione Un progetto Di turismo integrato Che vuole promuovere Le aree interne Del Molise Per valorizzare i luoghi I sapori del territorio E contrastare lo spopolamento Agnone è capofila Di questa strategia Alto Mediosannio Che è composta Da 33 comuni Nell'ambito di quella strategia Che è stata disegnata Oggi presentiamo Il progetto Relativo Ad una card turistica Quindi diciamo Che un primo inizio Per valorizzare Quelle che sono Le potenzialità Del territorio Quindi Un territorio Che per invertire Il trend Dello spopolamento Deve puntare Necessariamente Sul turismo Quindi sulle eccellenze Culturali Sulle eccellenze Gastronomiche E sulle eccellenze Naturali Per far questo C'era bisogno Di mettere in rete Tutti questi comuni E tutte le attività Che sono presenti In questi comuni Tutti i musei Che sono presenti In questi comuni Quindi siamo riusciti In questa azione Iniziale Di mettere A punto Di creare Una sinergia Tra enti E attori Diciamo economici Del territorio E oggi presentiamo Questa card turistica Che sarà data A coloro Che verranno a visitare I nostri territori Gli permetterà Di accedere Sia a ristoranti Sia a attività commerciali Sia a musei Con un piccolo scondo E speriamo Che sia un elemento Moltiplicatore Di tutti coloro Che ci verranno A visitare E esporteranno Queste notizie All'esterno Così da implementare Il turismo Della nostra regione E finalmente Anche di carpire Qualche numero Sulla potenzialità Del nostro territorio Presentate questa mattina Le fasi più importanti Della festa del grano Aglielsi Martedì 26 luglio Ci sarà infatti La sfilata Dei carri allegorici Di Spig E delle traie Gli antichi mezzi Per il trasporto Dei covoni Ma vediamo L'appuntamento centrale Di questa 217esima edizione Della festa Del grano Aglielsi E per martedì 26 luglio Quando Dopo la messa La chiesa madre Partirà La consueta Sfilata Dei carri allegorici Fatti di spighe Di grano Lavorate artisticamente Dalle persone E delle traie Gli antichi mezzi Con i quali Si trasportavano I covoni La sfilata Partirà Alle 11 Ed attraverserà Tutto il paese La festa Continuerà in serata Con un concerto musicale E si concluderà Con lo spettacolo Pirotecnico Questa è la nostra festa Più grande Più partecipata Oltre che dai cittadini Di Gli antichi Anche da Tutti quelli Del circondario E ogni anno È stata sempre più Migliorata Dalla Dalla partecipazione Attiva Sia dei componenti Del paese Per la costruzione De vetraglie Eccetera Sia dall'impegno Di persone Sempre più attente Che fanno parte Del comitato Il dottor Michilli Che è il presidente Del comitato Sant'Anna Quest'anno Ha fatto Un grandissimo lavoro Anche per il ritorno Che sappiamo Dopo due anni Di fermo Abbiamo in programma Numerose manifestazioni Tra cui Anche quella Sì Del ritorno Dei nostri Conterrani Ma Anche Una cosa Importantissima Un evento Fatto sui grani E quindi Sulle farine E quindi Sui prodotti Che potrebbero venire Nuovamente Messi in commercio E che sono stati Abbandonati Per questioni Economiche Quindi Ecco qua C'è questo Interesse nuovo Anche in agricoltura Che non ci dispiace Perché Si vedono anche Si vedono anche Dei terreni Non più coltivati Che però Stimolano L'interesse Di alcuni giovani E quindi Questo è ancora Più interessante È partito A Chiauci Il Ceris Park Un parco Avventura Tra gli alberi E divertenti Laboratori Ambientali Per bambini Si tratta Di un progetto Di educazione Ambientale All'interno Del Bosco Di Santo Nofrio Aperto fino a 4 Di agosto Tre volte La settimana Martedì Mercoledì E giovedì In orario Pomeridiano Sei percorsi Per più piccoli E cinque Per gli adulti Tra tunnel Di legno Scivoli E piattaforme Sospese Migliorare Il servizio Del trasporto Pubblico Locale Prevista per domani Mattina Al terminal bus Di Campobasso La consegna Di 4 autobus Acquistati Dalla regione Molise Interverranno Il presidente Donato Tome L'assessore regionale Trasporti Quintino Pallante Ma adesso Andiamo a vedere Le previsioni Del meteo La gamma commerciale Tutta l'energia Che ti serve Specialisti Delle batterie E degli accumulatori E in Viale Olanda Nella zona industriale Di San Salvo Solo e caldo Oggi su Molise E Abruzzo Dalla sera cielo stellato Su entrambe le regioni Le temperature Sono previste Dai 23 gradi A Campopasso Fino alla massima Di 36 gradi Di Sernia Per il Molise In Abruzzo La minima Di 22 All'Aquila Fino ai 36 gradi Di Chieti Ventilazione debole Di direzione variabile Calmo il mare Adriatico Domattina ancora Molto sole Sulle due regioni Valori climatici In ulteriore rialzo Correnti da nord-est Calcio Sogno Campopasso Tutto nelle mani Del Tar Tra i tifosi Però la notizia Di un possibile Ritorno Dell'americano Rizzetta Che subentrerebbe A Gesuè Nella società Rosso-Blu E la voce dei tifosi Quella che si fa sentire Dopo l'esclusione Dei lupi Dalla Serie C Un calcio Su cui la città Di Campopasso Contava Un calcio Che stava facendo Sognare i tanti Che delusi Hanno manifestato La propria amarezza Scendendo in piazza Quei tifosi Che pian piano Hanno iniziato A riempire Gli spalti Dello stadio Selvapiana Con i colori Rosso-Blu Sostenendo la squadra Del cuore Lo stesso cuore Dove ormai Era entrata la Lega Pro Si sono ritrovati Davanti il municipio Del capologo Molisano Un percorso Entusiasmante Interrotto Dalla decisione Del collegio Di garanzia Del CONI A causa Dei debiti fiscali Della società Guidata da Mario Gesuè Che ora si è affidata Alla giustizia ordinaria Speranze ridotte A lumicino Seppur sia nell'area La possibilità Che Matt Rizzetta Il socio americano Che un anno fa Ha lasciato le quote Del club Possa tornare in città Subentrando a Gesuè Una notizia Che si è diffusa Proprio mentre i tifosi 300 circa Ieri hanno manifestato Incontrando pure Il vertice di Palazzo San Giorgio Roberto Gravina E gli assessori Paola Felice E Simone Cretella Il primo cittadino Ha spiegato Che mantenendo la matricola Sarebbe possibile L'iscrizione In serie D Altrimenti Non resterebbe Che partire da zero Creando una nuova società E quindi una nuova matricola Sborsando 100.000 euro Per il campionato Di eccellenza O 300.000 Per la D Noi siamo Il primo vaso Nuovo difensore Della porta giallo-blu Al vasto Gerardi Arriva Danilo Petriccione Classe 2002 Da 1,90 m Di altezza Danilo viene Dal settore giovanile Del potenza Però ha già militato Lo scorso anno Nel Gelbison La sua struttura fisica Importante Sarà sicuramente Messa a disposizione Di mister Coletti Che insieme Ai preparatori Silvestri Costruirà La forma fisica Tattica e mentale Del nuovo difensore Della porta Alto Molisana DR Sleave Sponsor Della Sampdoria Per la stagione 2022-2023 Il club Blucerchiato E la casa Automobilistica Molisana Hanno infatti Deciso di rinnovare La partnership Che li ha visti Uniti Nell'ultimo Campionato Con Evo Uno dei brand Del gruppo Italiano In questa stagione Sulla manica Dei giocatori Comparirà Invece DR Brand storico Di DR Automobilist Group DR Appena lanciato Due nuovi brand Che vanno così Ad affiancarsi A DR Ed Evo E che saranno Posizionati In un mercato Più alto A Termoli Da venerdì 29 A domenica 31 luglio Si svolgerà La tappa Gold Di beach volley Maschile Femminile Il presidente Del comitato Regionale FIPA Gennaro Nero Terrà lunedì 25 La conferenza Stampa Di presentazione Appuntamento Alle 17.30 Nella sede Dell'Ateneo Termolese In via Duca Degli Abruzzi E con questa notizia È tutto Termina qui L'edizione della sera Del telegiornale DTLT Io come sempre Vi ringrazio E vi auguro Una buona serata In nostra compagnia Arrivederci In DTLT DTLT In DTLT Grazie a tutti